Sapete che la percentuale di persone che vanno a votare all'elezione in Giappone è bassissimo? Per esempio 20enne, tra 30% e 40%, tantissimi giovani, quasi metà o anche di più, non vanno a votare. I comici presentatori italiani che parlano dei politici? Ma quanto sono bravi! E questo modo, secondo me, si fa sentire vicino il popolo al mondo di politica. Secondo me funziona molto, cioè influenza anche ai giovani, dicono le battute, come se fosse dal punto di vista nostro, no? Ieri sera ho visto questo programma di Diego Bianchi, così talentuoso, carismatico. Non è facile, cioè è fatto molto bene, anche se io purtroppo non riesco a capire, comprendere 100%, a parte che la mosca sulla testa di Berlusconi ho riso anch'io però. Per esempio, in Giappone, nessun comico prende in giro il mondo della politica. Se si parla di politica, sempre serio, serio, come telegiornale e anche commentatori. Forse su YouTube, alcuni, tra i giovani giapponesi, spesso parlare della politica è un discorso tabù. Siccome non c'è questo personaggio che collega due mondi, spesso per i giovani giapponesi il mondo della politica sembra lontanissimo e quindi l'interessamento per la politica è bassissimo.